Sicurezza idrogeologica sopra il luogo del presidente della regione toscana Enrico Rossi insieme all'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni e al presidente del consorzio di bonifica 3 in medio Valdarno Marco Bottino. Prima tappa a Quarrata dove è stato inaugurato il secondo lotto della cassa di espansione sul torrente Stella a Pontassio. 2 milioni e mezzo di euro per un invaso di 350 mila metri cubi che unito al primo lotto terminato per un costo di mezzo milione e al terzo in fase di progettazione per oltre 5 milioni azzererà le esondazioni in un tratto di 5 km a valle dei lavori. L'area potrà contenere qualcosa come 700 mila metri cubi d'acqua quindi insomma è una dimensione piuttosto consistente piuttosto importante per la riduzione del rischio idraulico in tutta questa zona. La delegazione regionale si è poi recata sul cantiere di Castelletti tra i comuni di Carmignano e Signa dove con 3 milioni e 200 mila euro i lavori serviranno a migliorare il deflusso dell'ombrone con la risagomatura della sponda destra e una nuova arginatura per mettere in sicurezza un'area che comprende anche la zona industriale di Comeana entro il 2020. Questa è una zona nella quale la regione toscana da 4 anni a questa parte ha investito veramente molto con tanti finanziamenti, tanti interventi sulle arginature, la nuova cassa sull'ombroncello per cui siamo pronti a partire, la senisce, il settola, quindi un territorio fragile che certamente ha scontato anche tanti anni di sofferenza e di eventi importanti che oggi però diciamo può vivere e dormire soprattutto più tranquillo, questa comunità può farlo. Tra i lavori di messa in sicurezza nella zona ci sono anche quelli della cassa di espansione sul torrente Ombroncello a Barba. Il primo lotto della capacità di 28.600 metri cubi ha un costo di 1.435.000 euro. Una zona molto impattata da lavori perché è una zona nella quale c'era molto bisogno di lavori. Abbiamo recuperato molto tempo, non ci fermeremo fino a che non avremo la garanzia di aver impattato tutto il territorio.